Ciao Pablo, a lui bisogna portare i tortellini, ti ricordi nel supermercato? Portiamo tante cose buone, è un peccato piccolino, comunque è giovane, è un cucciolone. Adesso vediamo di recuperarli, noi troviamo una bella famiglia questo cucciolo. Dobbiamo castrarli anche ancora. Che cosa ha la dimensione? Sai un cane mai abituato a stare in quel buco, potremmo noi trovare una cuccia più grande e mettergliela. È vero? Sì, Pablo, di quello che è cattivo questo cucciolo. Noi facciamo tante belle foto, ha solo tanta paura. Quindi è un peccato da tutti. No, è meglio che sia qui per questo tratto a stare il canile, ma tanto sta tranquillo, si sente meno l'abbaiare, no? Dei cani. Vedi, non litiga nemmeno con l'altro maschio, guarda. Facciamo qualche foto.